25 anni di insubria, che cosa significano per il Rettore Tagliabue e quali sono le prospettive? Sono un traguardo raggiunto ma anche un punto di partenza naturalmente, punto di partenza stimolante per raggiungere una crescita sicuramente sempre più qualitativa nell'ambito didattico della ricerca, non dimenticando l'attrattività dei servizi e quindi quanto riguarda lo studentato con dei concetti di studentato diffuso, quindi una permeazione con la città, la possibilità di portare la cultura all'interno della città e quindi l'apertura sempre di più delle strutture universitarie alla città, quindi una vera e propria condivisione del sapere, della ricerca di tutto ciò che facciamo con la cittadinanza. E in questa maniera sarete sempre più concorrenziali rispetto a Milano che in questo momento sta vivendo tutta una serie di problemi legati alla sistemazione degli studenti. La nostra maniera di concorrere è una gara qualitativa, noi non abbiamo obiettivi di numerosità anche perché non avremmo le strutture per diventare un mega Ateneo, ma ci interessa rimanere un Ateneo con la nostra identità. Lo studente ci deve scegliere perché qui si deve sentire a casa, tutelato, ultimamente molti discorsi sulla fragilità degli studenti, forse legati anche al fatto che si sentono abbandonati magari nei grandi Atenei, qui da noi questo non deve succedere.